Siamo qui per annunciarvi una bella scoperta, per noi è stata una scoperta, infatti abbiamo trovato in un deposito abbandonato queste circa 70-67 machine che erano abbandonate da qualche anno, quindi come fa un buon padre di famiglia, vede anche cosa è in casa e abbiamo iniziato a testarle, a metterle in funzione, abbiamo visto che circa 20 possono essere utilizzate più o meno da subito e verranno messe in strada progressivamente e sulle altre stiamo chiaramente intervenendo e riattivando i contratti di manutenzione perché ovviamente dopo tanti anni di fermo insomma hanno necessità di essere un po' sistemate, però è evidente che questo continua l'azione di recupero degli sprechi, di taglio degli sprechi e di riutilizzo delle risorse che ha ma ha. È anche un po' vergognoso il fatto che siano state semplicemente dismesse, siano state semplicemente abbandonate perché a un certo punto si è scelto di seguire un'altra filosofia sulla pulizia evidentemente delle strade, quando comunque sono macchinari ancora validi che possono fornire un aiuto importante. Quindi eccoci insomma di nuovo qui a consegnare alla città un altro pezzetto che può aiutare a tenere pulite le nostre strade. Io passerei la parola all'assessore Montanari e poi al dottor Bagnacani che ci possono illustrare con più particolare quello che faremo. Grazie. Grazie alla sindaca. Quello che la nostra sindaca ha detto è giustissimo nel senso che noi oggi proprio manteniamo quello che avevamo promesso, cioè abbiamo investito molto della nostra attività per ottenere un obiettivo fondamentale, come l'abbiamo chiamato è l'ottimizzazione del funzionamento di AMA e su questo stiamo intervenendo cercando di ottimizzare come sapete l'organizzazione, la raccolta e ci siamo anche occupati di capire quali erano gli elementi fondamentali per migliorare la città e per avere Roma pulita. Quindi grande obiettivo Roma pulita e mentre abbiamo iniziato questa attività di analisi della situazione abbiamo scoperto l'esistenza di queste Dream Machine appunto a 67 acquistate nel 2009 per un costo complessivo di dominio indierno e questi Dream Machine sono stati attivi per circa cinque anni fino al 2013 e poi si è fermato l'utilizzo quando è cambiato appunto il modello di servizio. Allora oggi noi stiamo appunto ridisegnando un'importante attività per raggiungere l'obiettivo appunto di Roma pulita anche e soprattutto sulle nostre strade e sui marciachiedi. Noi sappiamo che riceviamo tante segnalazioni ai cittadini e allora queste Dream Machine possono tornare a svolgere una funzione importantissima. Importantissima perché consentono la pulizia di itinerari particolari come i marciachiedi, le aree pedonali, le aree non aperte al transito appunto veicolare che purtroppo spesso è proprio sulle quali è difficile anche intervenire. Rimettere in funzione queste Green Machine per noi appunto è un obiettivo fondamentale di ottimizzazione e va nella direzione di iniziare appunto un percorso per avere una città pulita anche nei particolari e la scelta quindi di riprendere le Green Machine va in questa direzione ed è anche una direzione che si concilia con la nostra filosofia che è quella di recuperare, riciclare tutto e quindi è la prima azione che abbiamo voluto in questo senso mettere in campo e che fa parte del nostro piano complessivo in AMA. In questo senso quindi le vedrete in azione in alcuni itinerari e il Dottor Bagnacani ora spiegherà appunto gli itinerari che sono stati individuati e spiegherà appunto il cronoprogramma delle Green Machine e soprattutto come possono essere utilizzate in modo efficiente. Ovviamente siamo rimasti un po' perplessi sul fatto che le abbiamo scoperte appunto erano lì e non facevano nulla e quindi noi questa operazione la facciamo proprio in questa direzione. Bene, buongiorno a tutti. Il tema è, facendo una sintesi, valorizziamo il patrimonio di AMA per restituire un migliore servizio ai cittadini. Io poco dopo che mi sono insediato appunto ero stato sollecitato ma era stato chiesto conto da qualche consigliere circa queste Green Machine dicendo in passato che erano state utilizzate queste Green Machine e che fine hanno fatto considerato il servizio di utilità che queste macchine facevano. Vi garantisco che alle prime verifiche non esce più queste Green Machine, poi successivamente le abbiamo individuate e scoperte in più sedi messe a riposo e scoprendo che abbiamo 69 macchine in casa. 69 macchine acquistate in realtà con un valdo del 2009 messe in funzione dal 2010 al 2013 con un costo, e questi qua sono dati storici in merito alla congruità del prezzo e come azienda stiamo esposta e valutando, con un costo di circa 30 mila euro a macchina e vi era stato anche associato un contratto di manutenzione full service a queste spazzatrici del costo di 470 euro al mese per i primi tre anni, 2010-2013. Quindi complessivamente con un investimento iniziale di circa 2 milioni e con un costo di manutenzione a macchina sul treno che superava i 16 mila euro. È evidente che di fronte a questo investimento significativo, di cui lo computare il prezzo lo staremo anche a verificare. Rimane il fatto che queste spazzatrici sono nel nostro patrimonio aziendale e l'ammortamento delle stesse a bilancio da successivi verifiche risulta completarsi nel 2020. Quindi abbiamo a tutti gli effetti in esercizio dal punto di vista bilancistico ed era doveroso, scoperta questa situazione, metterla in esercizio per la città per restituire maggior decoro alla città. Devo dire che in questa operazione, con questo desiderio di mettere a valore un patrimonio aziendale, devo veramente ringraziare la struttura di AMA perché in pochissimo tempo, con grande volontà e direzione, hanno sia cominciato l'attività di ripristino di questi mezzi per mettere in funzione, come potete immaginare i mezzi fermi da tanto tempo, richiedono tutta una serie di attività di ripristino per farle partire, così come le vediamo oggi, queste prime eventi di 69. Sono attività che sono state fatte con la grande volontà e competenza del nostro personale. Di questo ringrazio molto l'ingegner De Sisti, che è il nostro nuovo responsabile dei mezzi AMA che col suo lavoro in questo breve tempo ci sta aiutando a cambiare il corso della storia rispetto alla disponibilità dei mezzi e rispetto alla migliore gestione dei mezzi. Ringrazio anche l'ingegner Stefano Bianchi, che è responsabile delle raccolte, perché si è prudicato, congiuntamente De Sisti, per definire fin da subito quelli che possono essere i primi itinerari di utilizzo di queste green machine, in modo tale da potervi dire oggi che già da lunedì le prime due macchine saranno in funzione. Poi vi illustro proprio il crono programma. Per spiegare cosa sono queste green machine, sono delle macchine complementari a altre macchine di pulizia stradale, perché sono macchine spazzatrici manuali che possono essere utilizzate in marciapiedi e aree pedonali, quindi non si sostituiscono alle grandi macchine di spazzatrici stradali, ma sono complementari proprio in quei luoghi dove le grandi spazzatrici stradali non possono passare marciapiedi, zone pedonali e quindi ci consentiranno queste macchine sicuramente di rendere un buon servizio in tutte quelle aree di preso pedonali e marciapiedi dove i cittadini puliscono proprio forse maggiormente. E quindi queste spazzatrici ci consentiranno di integrare un panel di servizi per un miglior decoro urbano. Di queste 69 ne abbiamo già ripristinate 20 e ci siamo immaginati, più che immaginate abbiamo studiato e organizzato i primi 18 itinerari. Questo vuol dire che non ci fermiamo ai 18. Questi primi 18 itinerari sono per noi indispensabili per comprendere anche gli esiti che ci aspettiamo, per affinare anche il modello di servizio che può essere associato a questo tipo di spazzatrici. Quindi dopo queste prime 18 faremo tutte le valutazioni per spendere il servizio ad altri municipi, ad altre zone e utilizzando le altre spazzatrici disponibili. L'impegno del nostro responsabile della nostra struttura di gestione mezzi sarà tale per cui anche nella gestione e nella valutazione dei mezzi appliceremo logiche differenti rispetto al passato che garantisca certo la funzionalità delle macchine ma utilizzando i criteri di maggiore economicità. Questo è un obiettivo che ci siamo prefissati. Vediamo ora di illustrare la sequenza della cronologia. Noi comincieremo a utilizzare queste green machine il prossimo 24 luglio a Trevi, primo municipio, e Ostia Ponente. Queste sono delle zone per cui ci sono tutta una serie di vie definite perché queste green machine devono seguire dei percorsi particolari per tutte le caratteristiche che hanno. Per intendere non possono essere usate liberamente in strada ma devono seguire dei marciapiedi, dei attraversamenti pedonali eccetera. Quindi sulla base di questi vincoli abbiamo definiti percorsi. E quindi Trevi e Ostia Ponente il prossimo 24 luglio, Delle Vittorio e Testaccio primo municipio dal 31 luglio, Casal Bertone quarto municipio e Montagnola ottavo municipio dal 7 agosto, Verano secondo municipio e Cento Celle quinto municipio, Marconi undicesimo municipio dal 28 agosto, Montesaco terzo municipio, Don Bosco settimo municipio, Giannicolese dodicesimo municipio dal 4 settembre, Piazza del Popolo primo municipio, San Pietro tredicesimo municipio, Ponte Emilio quundicesimo municipio, Navona Spagna Termini primo municipio dal 18 settembre. Queste sono le prime aree che abbiamo definito. I municipi che non sono stati ancora interessati saranno successivamente coinvolti perché intendiamo estendere questo servizio, appunto nelle zone definite, su tutti i municipi. E quindi questo è lo sforzo che abbiamo attivato in questo poco tempo per riesumare un patrimonio aziendale sul quale l'azienda ha speso parecchi soldi dei cittadini e metterli a valore tra gli anni a venire. Ci auguriamo che tutto questo possa portare dei risultati apprezzabili sulla cittadinanza rispetto al decoro. Questa è una delle misure su tante altre misure perché noi siamo ben consapevoli che sul decoro urbano ma dobbiamo fare passi molto importanti e significativi. E quindi ci aspettiamo nel corso di quest'anno che abbiamo di fronte di ottenere dei risultati molto importanti anche questo in un tassello iniziale di questi risultati che andiamo a prospettare man mano a questa città. Grazie. Direi di dare la parola a questo punto al Daniele Diaco anche perché l'attivazione di questo nuovo servizio, l'ottimizzazione quindi di pulizia e di spazzamento che viene messo in campo nasce proprio da una sollecitazione del nostro Presidente della Commissione Ambiente che ringraziamo per questa scoperta e attività. Io ringrazio veramente il lavoro importante che è stato portato avanti invece dall'assessorato e dall'amministratore delegato Vagnacani che prontamente insomma hanno cercato di individuare queste spazzatrici perché importanti per il decoro della nostra città. Questo è avvenuto in tempi brevissimi perciò l'efficacia e l'efficienza di questa amministrazione che l'Ama stessa dà un segnale importante in questo senso. Cioè riscoprire quello che l'azienda ha, riutilizzare quello che l'azienda ha e metterlo in campo per migliorare la nostra città. Perciò quello che è stato fatto è un lavoro importante anche estenuante perché portare ad alti livelli che l'Ama sicuramente è un compito arduo ma anche l'assessorato e l'amministratore Vagnacani stanno facendo veramente un grande lavoro. Perciò oggi sicuramente dà un segnale di cambiamento nel senso che noi vogliamo togliere gli sprevi, vogliamo riutilizzare quello che l'amministrazione ha ed ha veramente tanto. Perciò appena abbiamo saputo che queste spazzatrici che hanno avuto un costo importante per i cittadini romani appena abbiamo saputo che effettivamente non venivano più utilizzate questo ci ha fatto allarmare, ci ha posto un obiettivo che è quello di ritrovarle, di rimetterle in funzione e allo stesso tempo di migliorare il decoro di questa città. Queste spazzatrici svolgono un lavoro certosino per raccogliere le città di sigaretta, per le lezioni canine, per i volontini, per le sporcizie che ci sono a terra sui marciapiedi della nostra città. Perciò utili, utilissimi agli operatori di AMA che ogni giorno svolgono un lavoro incomiato. Infatti va anche a loro posto un ringraziamento importante in questo senso. Perciò speriamo che questi macchinari possano migliorare la qualità di Roma Capitale. Perciò io ringrazio invece fortemente l'assessorato all'ambiente, anche l'amministratore delegato Bagnacani, anche il direttore generale Bina e soprattutto la nostra sindaca Virginia Raggi che oggi è qui a dare questo messaggio importante. Perciò un ringraziamento soprattutto del valore. Grazie. Allora, se ci sono domande sull'argomento ne raccontiamo a gruppi di tre. Nome è testata. Grazie. 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 Buongiorno. Paola, domenica dell'Anza. Una domanda al senso Bagnacani. Ieri la polizia della città è stata classificata da un'indagine dell'Agenzia del controllo dei servizi con uno dei servizi meno apprezzati dai romani. Oggi il professore ha parlato dell'obiettivo Roma Pulita. Come intendete realisticamente portarlo a termine se vi si trattano la scadenza temporale? C'è qualcun altro? Vincenzo Bisguiglia, Fatto.it. Sull'argomento mi colpisce il fatto che le green machine si hanno costate 2 milioni di euro e a quanto diceva il contratto di manutenzione sia di 16 milioni in tre anni. 16 milioni da euro in tre anni. Ah, 16 milioni. 16 milioni da euro per ciascuna macchina. Verrà ripreso un contratto di manutenzione quanto costerà, quanto costerà anche rigenerare le macchine. E poi sul ciclo dei rifiuti è stata notizia dell'autorizzazione da parte della regione del filo vagliatore di Rocca Cencia e quello di Porcarello, ovviamente. E volevo sapere se lo utilizzerete per moda. C'è altra domanda? Ok. Rispondo per ordine. Quindi, cerchendo dall'arsa, ha riportato correttamente l'Agenzia per i servizi pubblici locali ha dato le pagelle ai vari servizi pubblici e sul tema dello spazzamento, devo dire anche sul tema della raccolta, si sono, ahimè, mantenute delle performance negative più o meno pare quello dello scorso anno, con degli zero virgola di differenza, ma di quello parliamo. Questo sicuramente ci dà un messaggio molto forte. La città non è soddisfatta del livello di servizio che attualmente stiamo erogando e quello che ovviamente stiamo facendo in azienda è una riorganizzazione del nostro lavoro in modo tale da poter restituire a questa città il decoro che merita e restituire a questa città anche una capacità di raccogliere rifiuti in modo puntuale e facendo diventare a Roma una città normale come tutte le altre città dove il servizio dei rifiuti è una cosa ordinata. Il cittadino espone, l'azienda lo accoglie. Per fare questo c'è bisogno di una profonda trasformazione in termini organizzativi dell'azienda. Stiamo rivedendo il modo in cui noi robiamo questo servizio. Oggi è un modo molto dispendioso in termini di risorse e mezzi impiegati ma che ha implicitamente alcune carenze per cui nonostante l'immesso sforzo di persone e risorse ha impiccino dei punti deboli questo attuale meccanismo tale per cui è molto complicato raggiungere l'obiettivo che ci viene richiesto. E' per questa ragione che stiamo reimpostando industrialmente tutti i servizi dell'azienda e questo percorso è già iniziato e quindi io direi che nei prossimi mesi comincieremo già a vedere degli stati concreti. Mi aspetto, se mi viene chiesto il tempo, in quanto tempo, devo dire che è un percorso molto impegnativo e sicuramente non di due giorni. Io ritengo però che nell'arco di questo primo anno, l'anno che abbiamo di fronte, avremo già una impostazione molto radicalmente differente che potrà restituire oltre che un oggettivo, un miglior decoro o un miglior servizio di rapporta, mi auguro anche, ma ne sono fiducioso di questo, anche migliorare la percezione dei romani rispetto al nostro servizio che è una conseguenza della capacità nostra di fare. Quindi siamo qua e come struttura divisionziale del gruppo stiamo rimpostando tutto appunto per raggiungere quell'obiettivo che non solo ci chiede la città, ma ci diamo noi a noi stessi in quanto azienda, in quanto industria, perché dobbiamo avere la capacità di essere all'altezza del compito che ci viene dato. E devo dire che su questo c'è una grandissima attenzione, attenzione quotidiana in senso positivo che è l'amministrazione della Sindaca e dell'Assessore Montanari il verso su di noi chiedendoci, in nome per conto dei cittadini, questo importante e irrinunciabile risultato. Quindi con questa grande sinergia e gioco di squadra nei rispettivi ruoli ritengo che abbiamo tutti gli elementi che servono per far sì che nei prossimi mesi possa cambiare il corso della storia sul spaziamento, pulizia e raccolta dei rifiuti. Mi è stato chiesto, la seconda domanda è invece come gestiremo queste spazzatrici, l'avevo un po' anticipato nel mio discorso iniziale. Indubbiamente imposteremo un servizio di manutenzione, una strategia manutentiva di queste spazzatrici perché nel momento in cui noi abbiamo un servizio dobbiamo avere anche la stabilità dei mezzi che ci consentono di rendere questo servizio. Lo dobbiamo fare però con dei criteri che da un lato devono garantire l'efficacia e la disponibilità di questi mezzi, dall'altro devono garantire la economicità. Stiamo lavorando perché come ho annunciato prima e sono poche settimane che abbiamo scoperto, risistemate e abbiamo, una cosa sicuramente dico oggi e sono sicuro che la manterremo, non attiveremo un servizio di manutenzione che costa 470 euro al mese per singola macchina, faremo una cosa come già grazie all'ingegnere De Sisti e al suo team abbiamo fatto, sperimentato in queste settimane che con capacità professionale operativa e con qualche investimento in prezzi di ricambio minimo siamo riusciti ad attivare le prime 20 di 69 spazzatrici. Quindi andremo, proseguiremo su questa linea. È il dubbio poi che ci sarà fare anche un acquisto di pezzi di manutenzione di ricambio necessario per garantire la stabilità del servizio, ma tutto nella logica di massima passimonia e gestione corretta delle risorse economiche, perché le nostre risorse economiche che poi si producono nelle tasche dei cittadini. Quindi su questo abbiamo un dovere industriale e morale molto forte e sul quale imporremo moltissima attenzione. Per quanto riguarda il tito vaglio, magari può parlare la Sessora Montanari. Sì, allora, rispetto al discorso del tito vagliatore di Rocacencia, questo è un impianto, come sapete, esistente, su cui appunto non era prevista l'aria, che adesso per modifiche solo di tipo normative è stata prevista l'aria, è un impianto che è stato autorizzato nel 2013, deve essere molto chiaro questo. È un impianto che noi non prevediamo nel nostro piano, come avete visto anche dal nostro piano assolutamente, di utilizzare, anzi noi vogliamo andare nella direzione del sviluppo di un'economia di riciclo ecoefficiente. Cosa significa questo? Significa che quel modello di impianti B, cioè il TMB, i trattamenti meccanico-biologici, o addirittura i tritovagliatori, che semplicemente tritovagliano e diciamo fanno perdere un po' di perdita di massa ai rifiuti, noi cercheremo proprio in futuro di evitare questo tipo di utilizzo tecnologico. Noi svilupperemo invece un'attività del ciclo ecoefficiente che anche nell'indifferenziato che resterà dopo aver raggiunto il 70% di raccolta differenziata, perché come sapete il nostro piano prevede riduzione di 200.000 tonnellate alla produzione di rifiuti, investimento attraverso tipologie di interventi diversi del 70% di raccolta differenziata col portabordo e con tutte le azioni che AMA poi metterà in campo e sta mettendo in campo. Quello che resta noi cercheremo addirittura ancora di recuperarlo perché anche in quello che resta, e qui sta la nuova visione di economia circolare che noi vogliamo diffondere, c'è ancora materiale importante, cioè dentro purtroppo oggi ai TMB c'è ancora carta, c'è ancora plastica, c'è ancora cartone, ci sono ancora frazioni legnocellulosiche, ci sono metalli, ci sono materie che possono diventare ancora materie prime e seconde per sviluppare in questo paese finalmente un'economia del riciclo ecoefficiente. Questa è la direzione chiarissima che noi vogliamo intraprendere con un modello che abbiamo disegnato al 2021 e quindi che entro il 2021 cercheremo di mettere in campo perché non vogliamo creare quello che è successo a Managrotta, cioè valore perso, vogliamo passare dall'economia lineare che crea valore perso a un'economia circolare invece che crea valori aggiunti per l'economia e per l'industria e per un nuovo modello anche industriale. quindi AMA tradurrà poi in azioni anche tecnologiche, quindi con investimenti anche di tipo tecnologico innovativo questo modello, quindi ovviamente fuori da questa vecchia logica. Allora adesso ci sarà una breve dimostrazione del funzionamento dell'inascita. Buongiorno Sindaca, a GR Radio, si tratta della voce di Camilla Corzi. Volevo sapere, avrete parlato di una conferenza stampa dell'assessore Colombano prima di commissioni. Lui il compito di Colombano si è favorito con la riorganizzazione della Governance, prima di tutto, e qui vediamo Bagnacani che probabilmente è un crescente, insomma, da comandarmi a investire, insomma, da nuovo corso della capitale. E poi vorrei sapere su questo accenno che ha detto al mancato pagamento della Tari, cui forse vi occuperete nei prossimi anni, cui ha fatto accenuto anche a Bagnacani, accusando anche Palazzo Chigi di essere la prima, tra le amministrazioni che non avete ancora pagato. e poi vi raccontate con un piano di recupero eventuale che state preparando. Allora ragazzi, vi rispondo io con la Tari. Sì, abbiamo qualche giorno fa annunciato così e reso pubblico quella che è la situazione della Tari. L'obiettivo nostro innanzitutto non era di puntare il dito contro nessuno, ma di fare il punto della situazione su una realtà di Roma sul tema del pagamento della Tari, ritenendo doveroso partire dalla pubblica amministrazione, avendo consapevolezza che poi dobbiamo chiedere anche ai cittadini che non pagano di impagare la Tari. E' chiaro che l'amministrazione pubblica deve essere la prima che dà l'esempio. Abbiamo quindi elencato quelli che sono gli insoluti in essere della pubblica amministrazione, senza partire da uno dall'altro, di uno più colpevole dell'altro, facendo semplicemente una fotografia dell'orto attuale. Devo dire che a seguito di quella conferenza stampa abbiamo così sollecitato un po' gli animi e nelle ore seguenti e tutt'ora in corso molti contatti sono intervenuti tra il nostro ufficio Tari, tra il nostro divisione Tari e i nostri debitori della pubblica amministrazione per comprendere bene e organizzare anche i pagamenti. Quindi voglio dire, questo sta portando un effetto immediato molto significativo per quegli insoluti dalla pubblica amministrazione a seguito di quella conferenza stampa e parte di quelli sono in fase di pagamento e quindi questo è un fatto molto importante. Però voglio dire, ci tengo a sottolineare che non c'è una colpa, un palazzo Chigi o un altro. Abbiamo fatto una fotografia per quello che era, senza voler discriminare nessuno, a accusare in particolare qualcuno. Però i risultati sono questi positivi. Innanzitutto diamo un senso di equità, di giustizia. La Tari la devono pagare tutti, come la devono pagare i cittadini, la devono pagare anche dalla pubblica amministrazione. Un secondo elemento, la Tari non pagata è grava pesantemente sulle finanze pubbliche e quindi questo è un elemento sicuramente non di giustizia ed equità e quindi questa operazione, che praticamente capisco magari ha avuto il suo impatto, è un'operazione ordinaria, cosa vuole dire, doverosa perché un sistema si regge quando tutti fanno la loro parte, un sistema si regge quando un sistema è equo. Non ci possono essere quelli che pagano e quelli che, per sedimentazione del tempo, si abbaggiano il diritto di non pagare. Noi chiediamo che tutti pagano con la consapevolezza che se questo accade, e così come il pagamento anche sui comportamenti virtuosi e sull'organizzazione aziendale, eccetera, come dire, se ciascuno fa la sua parte, questo mondo che oggi è stato definito molto carente dello spazzamento, della raccolta, eccetera, e quindi del decoro urbano, può cambiare radicalmente. Ciascuno faccia la sua parte e come istituzioni collaboriamo al meglio in modo tale che questo nuovo corso possa avere gambe e non solo parole. Grazie. Io mi aggancio a quello che ha detto l'amministratore quando parla del fatto che tutti debbano fare la loro parte. Noi adesso stiamo per andare a vedere le green machine in funzione, che secondo noi sono un'ottima risorsa che ci può aiutare a vedere la città, come vi ha illustrato prima il Dottor Bagnacani, soprattutto nelle aree nelle quali non riescono a passare i mezzi più grandi, quindi aree pedonali o marciapiede. Questo però non vuol dire che poi tutti siamo autorizzati a buttare, a continuare a buttare la città per terra, la fazzoletta per terra, solo perché abbiamo trovato le green machine che sono, come dire, che riescono a pulire meglio. In una città dove tutti fanno la loro parte, come abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale, noi siamo i primi a doverci impegnare per questa città, quindi invitiamo sempre i cittadini a tenere pulito perché AMA chiaramente passa, dovrà migliorare il servizio e come abbiamo detto stiamo cercando di riorganizzarlo nel senso di renderlo il più efficiente possibile e sicuramente abbiamo ancora qualche difficoltà, non è difficile ammetterlo, insomma, sarebbe sciocco negarlo, ma noi stiamo cercando di far ripartire un servizio, ma abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini, chiediamo assolutamente che i cittadini facciano la loro parte. È inutile che AMA vada a pulire due minuti dopo qualcuno prende e butta nel mazzoletto, finché non riusciremo a invertire questo comportamento che fa parte proprio del senso civico, del senso etico di ciascuno di noi. Noi potremmo passare venti volte con la green machine, ma se ogni volta qualcuno dopo ributta un pezzetto di carta, l'uomo sarà sempre sport. Allora, capiamo che Roma è la nostra città e tutti insieme, ciascuno per la propria parte, fa il suo, o qui possiamo mettere in funzione 2.000 le green machine, non saranno mai abbastanza, non può esserci una green machine per ognuno di noi. Noi dobbiamo essere i primi a tenere la città pulita e noi, lato amministrazione e lato AMA, dobbiamo essere i primi a fare non il 100%, il 110%, per chiaramente far sì che la città sia ancora più pulita. E lo slogan qua, mi permetto di dire, deve essere Roma è casa tua. Se ciascun romano intende Roma come casa sua, allora noi dobbiamo fare la nostra parte e migliorarci, ma se ciascun cittadino ci aiuti in questo senso, proteggendo il suo territorio, quindi Roma è casa sua, e penso che questo sia emblematico di quello che ciascuno dovrebbe fare, come ciascuno dovrebbe comportarsi. Nessuno a casa sua, dopo aver bevuto una bottiglietta, la butta nel centro della stanza. Nessuno a casa sua lascia i rifiuti in mezzo alla stanza, li butta indiscriminatamente. Ciascuno a casa sua si dà delle regole per far sì che i rifiuti e i comportamenti non siano adesibili a casa sua. Quindi se a Roma è casa nostra, e per ciascun romano Roma è casa sua, sicuramente questa è la sintesi massima di quello che ci aspettiamo, che nel gioco in ciascuno faccia la propria parte. Grazie, andiamo a vedere. Grazie. 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 la macchina mi passa davanti sporca Giovanni Giovanni, sporca più mezzo un passo in qua, ragazzi c'è una cinta che fa la macchina andrà a correre in quattro giorni e no, no, cadena ero andato a salire andrà a correre in quattro giorni scusa, un pezzettino avanti scusa, scusa attento scusatemi se ci lasciate la tutta scusa, scusa, scusa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.